Sorride il Chieti, mastica Amaro l'Aquila. L'Angelini finisce 1-0 per i Neroverdi con il gol decisivo di Forgione al nono minuto, frutto sia di un'indecisione del duo Lorenzoni-Raffaelli, ma anche di un evidente tocco di mano dell'ex Pineto, che ha di fatto spinto il pallone in rete. Il Chieti ha concretizzato i primi dieci minuti, giocati senz'altro meglio rispetto all'Aquila, che sembrava rimasta negli spogliatoi. Poi è cambiato tutto. Dominio rosso-blu, palle-golla, grappoli, ma super-serra e un pizzico di sfortuna non hanno permesso a Galesio e compagni di trovare il pari. Squadre schierate a specchio, 4-3-3 per Chianese ed Epifani il Chieti ritrova Forgione ed Ardemagni, ma l'ex Ascoli è lontano dalla forma migliore. Tegola per Epifani che perde Banegas al suo posto, Sarrizzu. Coreografie da categoria superiore, bel colpo d'occhio allo stadio Angelini, dirige Palmieri di Avellino. L'Aquila sbaglia approccio, il Chieti è aggressivo e con tanta voglia di fare bene. Barlafante si procura un angolo, d'ancora con il destro Pennella. Lorenzoni e Raffaelli giocano alla prendo io, la prendi tu, ci pensa Forgione a mettere tutti d'accordo, ma lo fa chiaramente con la mano. Palmieri non vede, il Chieti può festeggiare. Da questo momento l'Aquila prende campo e colleziona tante palle gol. Dopo due minuti ci prova Bacio Terracino, undicesimo, Serra è attento. Proteste rosso-blu alla mezz'ora. Sugli sviluppi di un corner la palla è destinata all'angolino, Serra smanaccia da campione. La palla era entrata, le immagini non chiariscono. Minuto 37, ecco Sarrizu, sinistro, out di poco. Quarantunesimo, gran volé di Wally, altro miracolo di Serra. Ripresa, dentro subito Gatto per uno spento Ardemagni, Chianese pesca tante forze fresche in panchina, l'Aquila continua a spingere. Minuto 23, Angiulli di sinistro, out di un soffio. Del Pinto lascia spazio a Carbonelli, entra anche Alessandro per Galesio. E il grande ex, imbeccato da Sarrizu, va occhi negli occhi con Serra al minuto 72, ma conclude alto con un lob da ottima posizione. C'è tempo al minuto 35 per la pennellata di Angiulli da calcio di punizione. La traversa salva il Chieti e nel lungo recupero non succederà più nulla. Braccia al cielo per il Chieti, rammarico e rabbia per l'Aquila, ma è solo la seconda giornata. Festa grande per i Neroverdi con qualche brutto episodio negli spoglietoi che ha rovinato l'immediato post partita.